Chi in questi mesi di emergenza si è speso senza riserve meritava questo livello di bellezza. Con queste parole si è espresso Michele Crisetti, sindaco di San Giovanni Rotondo, a conclusione del concerto di musica classica tenutosi martedì 25 agosto al Parco del Papa San Giovanni Rotondo. Una serata di musica dedicata agli operatori sanitari, alle vittime del Covid e ai loro familiari, voluta e promossa dall'amministrazione comunale della città di San Pio. Ad interpretare grandi classici della musica lirica, il basso maritono Matteo D'Apolito, il soprano Marica dell'Eteris Franchino, sul palco l'orchestra sinfonica Suoni del Sud, diretta dal maestro Renata Russo. L'Elisir d'Amore di Ghetano Donizzetti, il Don Giovanni di Mozart, il Barbiere di Siviglia sono stati alcuni dei celeberrimi brani eseguiti, passando poi per alcuni classici della musica napoletana. Suggestivo anche l'omaggio al maestro Ennio Morricone, con l'esecuzione di memorabili colonne sonore, come la Califfa e il nuovo Cinema Paradiso.